Aurora Ramazzotti è incinta? Le ultime foto di chi non lasciano spazio all'immaginazione, guardale all'interno. Aurora Ramazzotti è incinta e ormai non ci sono dubbi, la figlia di Michelle Unzichera è stata anticipata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, ma non ha ancora espresso una parola sulla sua presunta gravidanza Di recente è stata paparazzata proprio dal noto magazine in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza e i più hanno notato un pancino sospetto. Leggi anche, Michelle Unzichera e Tommaso Trussardi sono tornati insieme? Sono voci vere, ecco chi l'ha detto Aurora Ramazzotti è incinta, il weekend romantico con Goffredo Cerza a Roma Aurora Ramazzotti è incinta oppure no? La figlia di Michelle Unzichera non ha ancora ufficialmente commentato il rumor, ma ormai sembrerebbe essere certo. Nel frattempo, comunque, si gode un romantico weekend con il fidanzato Goffredo Cerza a Roma Negli scatti del magazine Chi si vede la coppia insieme alla famiglia di lui passeggiare per le vie della capitale? La ricerca della casa perfetta È stabilito a Milano, dove vive Aurora e dove lui lavora Al momento, comunque, la Ramazzotti non ha ancora ammesso di essere incinta, nonostante ormai questo sembri essere il segreto di Pulcinella La notizia della gravidanza Alfonso Signorini, tramite il suo magazine Chi, ha parlato della gravidanza di Aurora Ramazzotti, è stato proprio il conduttore del GFVP a dichiarare che fosse incinta, ma come sappiamo la figlia di Michelle Unzichera ha preso molto male questo gossip su di lei Perché? Il motivo è stato svelato da Signorini stesso, le foto di Aurora incinta Nel frattempo di seguito vi lasciamo le foto di Chi di Aurora Ramazzotti e il suo pancino sospetto Foto, chi foto, chi foto, chi seguici su Instagram cliccando qui Ci vediamo nei prossimi video